Ogni giorno nelle case degli italiani un lupo di peluche perde il 25% di pelo sintetico lasciando il 75% restante in uno stato di abbandono. Aiuta anche tu il 75% di pelo sintetico a superare la profonda crisi di abbandono adottandone almeno il 35%. Reclam a favore dell'associazione per i diritti socioculturali del pelo sintetico pelo meno sono sintetico. Pensaci anche tu il pelo sintetico e l'innovazione e l'avanguardia in Italia per la profonda crescita del paese.